Fermato nella borgata sassarese di Ottava, il presunto omicida del calciatore ha coltellato questa notte in via Zio Rimundu, poco distante dal circolo sportivo della squadra di calcio di Ottava, dove militava col ruolo di attaccante. La vittima, Nicola della Morte, un impiantista di 23 anni, originario di Sondrio, è morto in ospedale per la grave ferita riportata. Il giovane, dopo la coltellata ricevuta dal suo assalitore, si è accasciato al suolo. Immediatamente a soccorso da alcuni compagni di squadra, che hanno assistito al tragico ferimento, il calciatore è stato trasportato all'ospedale di Sassari, dove è spirato, nelle prime ore del mattino. Il giovane era ritornato a Sassari da due giorni per disputare l'ultima partita contro il Codrongianos, prima di iniziare la stagione turistica. Ieri notte, la festa nel circolo sportivo, per salutare la squadra, ma il feritore, descritto dagli abitanti di Ottava come una testa calda, aveva iniziato a infastidire alcune signore. Nicola ha quindi cercato di allontanare il disturbatore, ma Daniele Ventriglia, 25 anni, originario di Carbonia, ha reagito in malo modo. Brandendo un coltello da cucina che ha affondato nel petto del calciatore. A questo punto ha abbandonato l'arma del delitto, si è dato la fuga nelle campagne circostanti, dove è stato rintracciato dagli uomini della polizia questa mattina, alertato dai carabinieri, intervenuti subito dopo il fatto, e che hanno effettuato i rilievi sul luogo del delitto. Ventriglia, atteso per tutta la notte prima di riuscire a raggiungere la sua auto, per potersi allontanare dalla zona, ma è stato bloccato da una pattuglia della polizia stradale. Il presunto omicida si trova ora nelle camere di sicurezza della Questura, a disposizione del giudice inquirente.